Pensionati sulle strade a manifestare solidarietà ai lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni, che da quasi due settimane protestano per la grave crisi occupazionale che ha interessato il comparto industriale. Questa mattina presidio sulla strada provinciale Gela Butera. Quanto sta accadendo, hanno sottolineato i pensionati, non coinvolge solo l'industria, è un'intera città che soffre. I pensionati è chiaro che fanno parte integrante di questo territorio, di questa città. E il problema non è di pensionati, è di tutti. Quindi noi non siamo solo per solidarizzare, ma facciamo proprio parte attiva di questa tragedia che è la mancanza del posto di lavoro nel territorio. Al di là delle decisioni del Eni, non è solo l'Eni che deve rispondere alla ricchezza di questo territorio. E tutto il territorio, i nostri politici, i nostri rappresentanti, le parti sociali, le imprenditorie, deve capire che l'alternativa alla raffineria si deve cercare e si deve creare. Perché la raffineria avrà il suo tempo, oggi, domani, fra dieci anni, quindici anni, ma noi dobbiamo risolvere il problema del lavoro. La solidarietà è incondizionata ai lavoratori dello stabilimento? Certo, noi siamo i pensionati e forse saremo gli ultimi pensionati di questo territorio. Perciò dobbiamo dare manvorta ai lavoratori perché loro sono abbandonati da tutte le istituzioni. Ora noi faremo qua il sit-in, poi domani, possibilmente, ci organizzeremo per farlo in città, per dare manvorta e fare ai nostri figli dare un avvenire. Perché purtroppo io ho due figli disoccupati e li mantengo con la mia pensione. La lotta sarà dura perché il governo, quando vedo, non vuole trattare, non vuole venire incontro a questo territorio che dopo 40 anni, diciamo, vede la raffineria morire. Quindi o loro vengono incontro, prima con gli ammortizzatori sociali, poi avviando questa green raffineria, altrimenti la lotta continuerà.